La situazione è abbastanza critica perché oramai questa è diventata quasi una cosa abituale, purtroppo. A distanza di quattro giorni la città di Matelica è stata colpita da un'altra bomba d'acqua. I danni e i disagi si vanno a sommare a quelli che si susseguono da settembre 2022 e che erano già stati quantificati in 2 milioni e 700 mila euro. Questa volta sono molte di più le zone di Matelica con smottamenti e allagamenti. In particolar modo a parte ovest ci sono state molte frane, molti allagamenti, le strade sono state ostruite. Sin da subito si è attivata la macchina comunale con tecnici e operai, con anche protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Oltre alla rete viaria molti sono i garage e gli scantinati danneggiati, altrettante le strutture pubbliche. Si è allagata anche la menza della scuola materna in seguito a tutti i danni, tutta l'acqua che è scesa lungo la linea ferroviaria, la ferma anche quella, anche la struttura dell'università, dell'unicam, della facoltà di veterinaria, la clinica veterinaria addirittura ha avuto dei danni ingenti. Alla luce di quello che sta succedendo, l'appello del sindaco e dell'amministrazione comunale si rivolge ancora una volta a Stato e Regione.